Buonasera, buonasera, benvenuti al Tribunale di Telestense. Come sempre abbiamo numerosi argomenti di cui occuparci. Il primo inevitabilmente sarà la situazione neve. Tra questa notte, la notte scorsa e questa mattina la neve è caduta, oltre che in provincia anche in città, abbastanza copiosamente, scuole chiuse, traffico in difficoltà, ma situazione complessivamente accettabile. Soprattutto vogliamo vedere questa sera che cosa ci aspetta per le prossime ore. Parleremo anche di politica, si sta per chiudere la campagna elettorale e a questo dedicheremo due interviste per il PD a Dario Franceschini e per il Movimento 5 Stelle al candidato Marco Falciano. E poi ancora, patto per il lavoro, bilancio delle attività dell'emporio solidale Il Mantello che si svolgerà domani, agricoltura, l'inaugurazione della mostra Stati d'Animo a Palato dei Diamanti che si svolgerà domani alle 18.30 e sarà seguita in diretta da Telestense, come poi vi ricorderò anche in conclusione di TV giornale. Dunque, per quanto riguarda la neve, nel pomeriggio la neve ha ripreso a cadere anche in città. Continuerà o dovrebbe continuare a cadere la neve durante la notte. Domani c'è anche il rischio dell'ormai celebre gelicidio, cioè la pioggia ghiacciata che cade a terra. Per questo l'amministrazione comunale di Ferrara ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, oltre che oggi, come ieri vi abbiamo annunciato, anche per la giornata di domani. Vediamo il servizio. Scuole chiuse anche domani, questa volta per un'allerta arancione diramata a livello regionale della protezione civile. La neve infatti continuerà a cadere questa sera e nell'intera notte, anche domani, anche se a tratti. Poi, verso il pomeriggio di venerdì, i fiocchi dovrebbero tramutarsi in pioggia. A quel punto, per via del grande freddo che c'è a terra, potrebbe aumentare il rischio gelicidio, ovvero le piogge che potrebbero trasformarsi in ghiaccio sulle strade. Un fenomeno che si potrebbe verificare, soprattutto in città e nella costa. Questa mattina, intanto, le strade principali del centro si sono presentate percorribili. Al Parco Massari, chiuso per precauzione, sono arrivati anche i tecnici del Verde a mettere in sicurezza le querce secolari che, in passato, con il peso della neve, subirono qualche danno. C'è poi chi, nonostante gli inviti da parte delle istituzioni, ha azzardato anche l'uscita in bicicletta e molti hanno spalato davanti all'uscio di casa e sui marciapiedi. Verso l'ora di pranzo, in alcune parti della città, ad esempio verso Coronella, sono caduti circa 10 centimetri di neve. Nel pomeriggio, dopo le 17, i mezzi in spargisale e le lame del comune di Ferrara, inoltre, hanno ripreso il lavoro a causa della nuova nevicata. Abbiamo avuto qualche disagio in più soltanto nella zona sud della città perché un mezzo ha bucato nel corso della notte, spiega l'assessore alla protezione civile alla mobilità Aldo Modonesi, che è in riunione permanente con i tecnici del comune per controllare l'evoluzione del meteo. La viabilità, tutto sommato, è risultato regolare e solo un camione uscito fuori dalla carreggiata questa mattina sulla A13 mentre percorreva la strada da Ferrara Sud a Ferrara Nord. Le autorità, intanto, consigliano la massima prudenza che deve uscire fuori di casa e chiedono di farlo solo se strettamente necessario. Per questo bisogna muoversi con automezzi dotati di gomme invernali. Alla guida, inoltre, è bene usare pochi freni e cercare di fermare il proprio mezzo scalando le marce. La Regione Emilia-Romagna, a servizio meteo, ha emesso un'allerta arancione, quindi di gravità medio alta per ghiaccio, pioggia gelata, per provincia di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara e per la Romagna. Questo conferma ciò di cui si parlava nel servizio che abbiamo appena visto. In pratica a partire dalla sera di oggi sono previste precipitazioni che potrebbero anche degenerare in pioggia gelata sulle colline e anche sui rilievi romagnoli. Poi domani precipitazioni a carattere di neve sulla parte occidentale della regione, si potrebbe formare ghiaccio al suolo, fenomeni di pioggia gelata nel resto del territorio, insomma una situazione complessivamente non facile rispetto alla quale registriamo questo appello del 118. I giaccio praticamente sono precipitazioni che sono in parte nevose e con un grande contenuto d'acqua che appena arrivate al suolo trovano un terreno molto freddo per cui ghiacciono, formano una croccia di ghiaccio spessa e questo ovviamente è molto pericoloso perché è altamente scivolosa. Certo, allora questo quindi potrebbe comportare pericoli e voi avete diramato, dicevo, un comunicato, un allerta diciamo per invitare la gente ad uscire il meno possibile nel caso dovesse verificarsi. Esatto, allora non solo noi raccomandiamo, essenzialmente per la giornata di domani e in modo particolare le persone anziane di uscire il meno possibile di casa, ma abbiamo anche previsto un piano di emergenza qualora i nostri mezzi in servizio non siano sufficienti per far fronte alle chiamate. Già abbiamo contattato tre associazioni di volontariato, le quali sono preallertate, alle quali non possiamo fare riferimento per avere dei mezzi aggiuntivi nell'emergenza per i soccorsi. Chi dovesse per forza uscire domani e dovesse trovarsi coinvolto con il gelicidio, quali sono i consigli più semplici per cercare di evitare incidenti? Il consiglio più semplice è avere un paio di calzature adatte, per cui si consiglia ovviamente scarpe coi tacchi delle suole di cuoio, quindi scartoni con la suola di gomma e cercare di evitare le zone dove si vede proprio il ghiaccio. Il ghiaccio in questo caso ha una superficie quasi a specchio e piuttosto meglio camminare sulla neve fresca che non su questa superficie di ghiaccio che è estremamente pericolosa. C'è una notizia, una comunicazione che viene da Ferrovie Emilia Romagna che riguarda i treni che in pratica domani ci fa sapere Ferrovie Emilia Romagna che è prevista la riprogrammazione dell'offerta dei treni sulla rete regionale, è successo anche oggi, succederà anche domani e in pratica ci sarà una riduzione complessiva di circa il 50% dei treni in relazione al livello di emergenza in conformità appunto come dicevamo con quello che è stato fatto oggi. La riprogrammazione interesserà il servizio dei treni Tipper sulle linee della rete Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Cianodensa, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara. Naturalmente per avere informazioni più ampie e precise consultare il sito www.tipper.it oppure anche la pagina Tipper, il profilo Tipper di Facebook. Andiamo avanti perché vogliamo anche capire un po' meglio che cosa succederà nelle prossime ore, misto di pioggia dice Ferrara Meteo che prevede come abbiamo detto in città e nel basso ferrarese la pioggia gelata, il gelicidio e poi per domenica però il giorno del voto alle politiche il tempo tornerà a migliorare. Vediamo. Ferrara Meteo, l'avevate annunciato che giovedì sarebbe arrivata la neve, quella più importante sicuramente rispetto alla spruzzata che c'è stata nei giorni scorsi, ma insomma che cosa ci attende da questa notte a domani e soprattutto nel weekend elettorale? Che cosa succederà? Il problema principale sarà a partire da domani mattina, comunque nel corso della giornata di domani venerdì, quando le temperature sempre in quota ormai si alzeranno, mentre al suolo quest'aria fredda proprio nei bassissimi strati continuerà a rimanere ben schiacciata al suolo. Temperature negative che potrebbero portare al rischio del fenomeno del gelicidio, ovvero la pioggia che congela a contatto con il suolo. Ecco, quindi c'è questo rischio? Sì, questo rischio c'è, sembra che non ci sia ovunque, diciamo che potrebbe presentarsi sia fin sulle coste e fino in tutti i settori centrali. Situazione diversa, diciamo, più verso il bondinese, verso il centese dove potrebbe rimanere solo neve, però qui parliamo di chilometri, quindi non è da escludere anche nelle penure più interne. Sabato il tempo sarà ancora abbastanza instabile, quindi ci si aspetta ancora qualche fenomeno di vista pioggia, ma prevalentemente saranno le piogge che cominceranno a essere le protagoniste. Nella domenica si prospetta un tempo migliore, nuvoluoso, con ampi spazi soleggiati, però ancora freddo al mattino. Ma il freddo durerà ancora, anche la prossima settimana? No, il freddo ha praticamente le ore contate. Ecco, direi che questa conclusivamente è forse la notizia che tutti speravamo di sentirci dire, cioè che il freddo ormai è destinato nei prossimi giorni a declinare. Cambiamo decisamente tema, come sapete ce ne siamo ampiamente occupati in questi giorni, come era inevitabile e doveroso. Domenica si vota, mancano ormai poche ore alla chiusura della campagna elettorale, quindi abbiamo sentito un intervento di alcuni candidati a questa elezione. Sentiamo nella prossima intervista Dario Franceschini, ministro dei beni culturali e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Ferrara. Gli abbiamo chiesto una valutazione politica conclusiva a tre giorni dal voto. Lui dice che il PD ha la squadra giusta per governare. Sentiamo. Ministro, manca veramente poco, il 4 marzo è alle porte, perché votare Partito Democratico? Il Partito Democratico in questi anni ha governato il Paese, ha messo a disposizione tre persone molto diverse tra di loro, da Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, ha dimostrato davvero una squadra di persone in grado di governare un Paese, ed è difficile governare un Paese come l'Italia in particolare. Poi mi giro dall'altra parte e dico, ma chi è in grado? Matteo Salvini che grida soltanto, che ha estremizzato le posizioni del centro-destra o i 5 Stelle che cavalcano tutte le giuste delusioni e rabbia delle persone ma non propongono nessuna soluzione? Bisogna che l'Italia si affidi a persone di esperienza. Allora, in attesa delle elezioni, intanto lei è riuscito con un comunicato molto importante, è arrivato dal Cipe, nuovi fondi, nuovi finanziamenti che riguarderanno anche la provincia di Ferrara. Beh, fa parte del dovere di un ministro, noi abbiamo investito moltissimo in cultura in questi anni, finalmente dopo gli anni delle frasi terribili come quella di Tremonti, con la cultura non si mangia. Una parte di queste risorse sono venute giustamente a Ferrara, Ferrara è un patrimonio straordinario di bellezza naturale, di patrimonio culturale, la città d'arte, il mare, il parco del Delta del Po, il fiume, le bellezze naturali, veramente c'è tutto. Ed ora sentiamo il Movimento 5 Stelle e in particolare il candidato alla Camera dei Deputati, Marco Falciano. Vediamo. Qual è, diciamo, il motivo fondamentale che trae da questa esperienza di campagna elettorale? Beh, innanzitutto è stato veramente piacevole incontrare direttamente gli elettori, incontrare direttamente i cittadini. Credo che noi del Movimento 5 Stelle, quando abbiamo questo rapporto diretto con gli elettori, non abbiamo, diciamo, quell'aura, quella spocchia che spesso e volentieri hanno quei politici già navigati. Noi siamo in primo luogo, prima di tutto, cittadini. Quando ci rapportiamo con i cittadini sentiamo i loro problemi e ovviamente cerchiamo di portarli ad alti livelli. Questo è quello che abbiamo fatto, abbiamo ascoltato moltissimo quello che ci avevano da dire tutti quelli che sono venuti ai nostri eventi, soprattutto parlando di sicurezza ed ambiente. Andremo avanti su questi temi. Da un certo punto di vista, per lei è un'esperienza nuova questa campagna elettorale, sicurezza, ambiente, sono i temi fondamentali per lei? Abbiamo battuto due temi, come giustamente detto, sicurezza e ambiente. Spesso sicurezza è confusa o semplicemente limitata alla sicurezza personale dalle altre violenze, mentre secondo noi la sicurezza è anche sicurezza della salute, sicurezza dell'ambiente e quindi sicurezza delle persone in un territorio che purtroppo, come il nostro, è fortemente antropizzato. L'agricoltura intensiva ha inquinato pesantemente le falde acquifere e il suolo, gli inceneritori, il polo chimico purtroppo continuano con questo vecchio retaggio industriale e non si investe come noi vorremmo a sufficienza, adeguatamente, nel rinnovabile, nel rifiuto zero. Questo è quello che vogliamo, vogliamo un territorio più pulito, vogliamo delle nuove risorse, vogliamo dei nuovi mezzi di produzione, una rivoluzione agricola, come abbiamo più volte rivendicato, vogliamo un cambiamento. E di elezioni si sono occupati anche i cacciatori, perché è un tavolo politico appunto dei cacciatori, lo vediamo in queste immagini, si è tenuto nei giorni scorsi a Copparo in previsione del voto di domenica, le associazioni al centro Parco Verde di Copparo hanno rivolto alcune domande ai candidati sul futuro della caccia per una serata moderata dal comandante, eccolo qua, della Polizia Provinciale Claudio Castagnoli. In particolare i cacciatori hanno chiesto a un eventuale futuro governo e quindi ai candidati il riconoscimento del ruolo di salvaguardia dell'ambiente per il cacciatore, un riconoscimento a cui naturalmente chi fa caccia tiene molto. Poi l'importanza sempre del cacciatore attraverso i coadiutori per il contenimento delle specie che hanno una popolazione eccessivamente prolifica e infine le stesse associazioni venatorie hanno chiesto regole uniche per le zone Parco locali. Ed ora parliamo di lavoro. Ieri Castello Estense si è tenuto un incontro nel corso del quale è stato firmato un patto per il lavoro su Ferrara. Come sapete la regione Emilia-Romagna con il presidente Bonaccini a inizio legislatura ha avviato un percorso che ha portato alla firma di un accordo regionale, un patto per il lavoro regionale. Ieri a Ferrara, presenti Tagliani come presidente della provincia e Bianchi come assessore regionale, è stato firmato un patto per il lavoro con un focus su Ferrara. Vediamo. La provincia di Ferrara sconta ancora oggi un divario strutturale dal punto di vista economico rispetto alle altre province dell'Emilia-Romagna. Per questo ieri in Castello Estensa la presenza dell'assessore regionale Patrizio Bianchi è stata sottoscritta in consulta provinciale dell'economia e del lavoro il focus ferrarese del patto per il lavoro con il quale la regione Emilia-Romagna, la provincia di Ferrara e i comuni del territorio ferrarese, l'università e le rappresentanze del mondo socio-economico locale si sono impegnate a condividere obiettivi e responsabilità per il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione della provincia di Ferrara. Il focus Ferrara, ha detto l'assessore Bianchi, risponde pienamente agli obiettivi del patto per il lavoro regionale, di creare sistemi territoriali forti, integrati, capaci di generare dal basso visioni di sviluppo. Tutti gli strumenti della regione, ha proseguito, sono a disposizione per dare attuazione agli impegni presi e riportare il territorio ferrarese a una crescita omogenea a quella regionale. Una politica regionale di equità territoriale, ha detto il presidente della provincia, sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, ha l'obiettivo di ridurre i divari territoriali e favorire i processi che consentono alle aree più fragili di agganciare i trend di crescita economica, sociale, territoriale. Questo approccio ha già portato risultati, quasi 70 milioni di euro per i beni culturali, un miliardo per la ricostruzione civile e mondo produttivo, due miliardi di investimenti per le strade, a cui si aggiungono i 160 milioni per la mobilità sostenibile, del ferro e dell'idrovia, nonché i 30 milioni di euro per le infrastrutture digitali. Ecco, naturalmente questi accordi sono tentativi di appunto accrescere la capacità del territorio di creare imprese e quindi anche creare posti di lavoro, ma purtroppo la sofferenza di molte famiglie è nota, la situazione di difficoltà di molte famiglie è nota ed è un tipo di difficoltà a cui ha cercato nell'arco dell'ultimo anno, di questi ultimi 12 mesi, di dare una risposta all'Emporio Solidale Il Mantello di Ferrara, che è collocato in via Mura di Portapoi e rappresenta un modello innovativo di welfare comunitario. Domani, a partire dalle 10, nella sala conferenza della Camera di Commercio di Ferrara, si terrà un incontro, un convegno, con l'obiettivo di fare appunto un bilancio dell'attività svolta nell'arco di questi primi 12 mesi di attività proprio dall'Emporio Solidale Il Mantello. L'evento sarà moderato da Dalia Bighinati, che come sapete dirige la redazione di Telestense. La nostra emittente, d'altra parte, è partner gold del progetto, insieme a Biperbanca, a Coppa Alleanza 3.0, alla cooperativa Camelot. Dalia Bighinati intervisterà tra il pubblico, i partner presenti, che non sono solo quelli che vi ho indicato, ma ce ne sono molti altri, ma anche i sostenitori, i volontari e privati cittadini. L'Emporio Solidale Il Mantello è una bella iniziativa, obiettivamente nasce da un progetto di agire sociale in centro servizi volontariato, come abbiamo detto, con numerose partnership da parte di aziende del territorio. Ed ora l'agricoltura. Questa mattina Coldiretti, presso la propria sede di Ferrara, ha ospitato e incontrato il ministro Franceschini, obiettivo presentare le proprie richieste nel settore agroalimentare ai candidati delle imminenti elezioni del 4 marzo. Coldiretti sta presentando in questi giorni di campagna elettorale un proprio manifesto in cui chiede ai candidati le priorità per l'agricoltura ed il settore agroalimentare da affrontare nei primi giorni di legislatura. Nella mattinata di giovedì 1 marzo, a confrontarsi con i vertici locali e regionali di Coldiretti, è stato il ministro Dario Franceschini, a cui sono stati illustrati i punti principali del manifesto. Diciamo che noi sostanzialmente chiediamo un impegno sui nostri temi, soprattutto rispetto del territorio, rispetto del cibo, crediamo l'istituzione del ministero del cibo, un impegno forte sull'etichettatura e la difesa dell'etichettatura con il nome del paese anche in Europa, che oggi ahimè è ad alto rischio e quindi anche su quello bisogna concentrarci. La valorizzazione del cibo con un ministero dedicato a questi grandi prodotti dell'agroalimentare e poi tanta trasparenza e legalità, la trasparenza sulle importazioni che ancora non c'è, la legalità quindi lotta alle agromafie in maniera importante perché poi sono l'elemento di criticità maggiore che nel nostro Made in Italy abbiamo e anche percorsi di semplificazione per le aziende, per le imprese, per i cittadini, per noi e perché poi il nostro sviluppo futuro passa dalla semplicità degli atti alla tutela del Made in Italy e al premiare chi lavora bene e a castigare chi fa della contraffazione un elemento di reddito. Dopo l'esposizione delle richieste di Coldiretti, il ministro Franceschini ha sottolineato l'importanza dell'enogastronomia per l'Italia, un settore che trae naturismo ed economia in parallelo all'arte e alla cultura. L'incontro si è concluso con la firma di Franceschini dei cinque punti che caratterizzano il manifesto di Coldiretti. Una mattinata importante, una mattinata che è stata contraddistinta da diversi punti toccati soprattutto per il nostro territorio, per i nostri agricoltori. Un tema importante è quello di conciliare l'arte con la cultura e l'agricoltura di un territorio. Sempre di più il nostro turismo si sposta per l'eno gastronomico ma anche per il cibo e quindi soprattutto non solo l'arte legata ad un territorio ma anche quello che possiamo trovare di pezzo importante di arte all'interno di un piatto. Intanto sempre in campo agricolo, CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara mette in guardia sulla possibilità che il gelo e le nevicate di questi giorni possano costare qualcosa ai produttori ferraresi. È prematuro parlare di vera e propria emergenza, dice CIA, ma in ogni caso stiamo monitorando il rischio che ci sia un danno alle produzioni frutticole ma sarà possibile avere un quadro preciso solo al termine di questa perturbazione relativamente anomala, così la definisce CIA. A quel punto i tecnici e gli agricoltori potranno fare una chiara valutazione dell'eventuale degenerazione delle gemme, qualche danno alle gemme di albicocche, susine, pesche precoci, quindi in fase vegetativa più avanzata, dice Sergio Tagliani, consigliere del Condifesa Bologna-Ferrara, c'è sicuramente stato e quindi staremo a vedere, insomma, tra un po' sarà il momento giusto per dare una valutazione complessiva a eventuali danni, questo avverte CIA. E poi, ecco, domani pomeriggio alle 18.30 a Palazzo dei Diamanti si inaugura la mostra Stati d'animo, arte e psiche tra Previati e Boccioni. La rassegna è organizzata da Ferrara Arte, dalle gallerie d'arte moderna e contemporanea di Ferrara, sarà visitabile dal 3 marzo, cioè da dopodomani fino al 10 di giugno. L'inaugurazione della mostra a partire dalle 18.30 sarà seguita in diretta da Telestense, ma oggi si è tenuta nel salone della Pinacoteca di Palazzo Diamanti una presentazione della mostra alla città e sentiamo quindi Maria Luisa Pacelli, che è la direttrice di Ferrara Arte, che ormai nelle mostre appunto di Palazzo Diamanti abbiamo imparato a conoscere. Sentiamola. Come di consueto ci sono i curatori di questa esposizione, che sono Chiara Borrasi, il professor Fernando Mazzocca e la professoressa Maria Grazia Messina, che illustreranno i temi della mostra, un po' a volo d'uccello, quindi non una vera e propria conferenza, ma comunque una presentazione delle varie tematiche che si troveranno nell'esposizione in Palazzo dei Diamanti. Ecco, una mostra molto attesa, quella di domani, si parlà appunto degli stati d'animo. Ecco, vogliamo anticipare brevemente al pubblico esattamente in cosa entrerà, quali saranno le caratteristiche di questa esposizione? La mostra racconta un periodo molto importante per l'avvento della modernità artistica, ma non solo, quando le scienze, ma anche la cultura in generale, l'arte e la letteratura sono tutte concentrate sugli stati psicologici, perché siamo, diciamo, agli albori della nascita della psicanalisi, degli studi della psiche, e tutto questo si riversa anche nella ricerca artistica. La mostra racconta questa storia dalla fine dell'Ottocento fino all'avvento dell'avanguardia futurista e sarà suddivisa proprio in stati d'animo, ci saranno diverse sezioni dedicate ai diversi stati d'animo. E così si conclude questa edizione del nostro TV giornale, quindi domani alle 18.30 appuntamento con Telestense per l'inaugurazione della mostra stati d'animo a Palazzo dei Diamanti. Per quanto riguarda tutto il resto, domani scuole chiuse in città oltre che in provincia e grande prudenza sulle strade per il rischio di gelate e di pioggia gelate. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata, continuate sempre a seguirci su telestense.it e sul nostro profilo Facebook. Grazie.